Nessuno si sarebbe aspettato addirittura la mamma all'interno della casa. Parleremo di questo, cari amici, intanto benvenuti in questo nuovo video. Io, per chi non mi conoscesse, sono Max, parliamo di grande fratello, parliamo di quel che non siamo riusciti a vedere magari nella diretta di ieri. E allora sì, è successo tutto dopo che un filmato aveva riassunto il duro faccia a faccia tra Michelin Corvaia e Antonella Fiordelisi, a partire proprio dalla crisi di Michelin confessionale. Subito è stato detto, è la seconda volta che mi fa passare per quella che mi sminuisce tutte le cose. Stavo male quando mancava soltanto per cinque minuti dalla stanza e lui questo lo sa benissimo. Ma sul serio sta facendo questa roba? Ma chi cavolo sono queste persone? Perché bisogna dare spiegazioni a tutti? Ma chi cavolo è Antonella? Che fastidio, che fastidio! Ma che ti salta in mente di raccontare le mie cose? Ma soprattutto, io avevo chiesto la gentilezza di non parlarne con Antonella. Non voglio più averci a che fare. Mi viene da vomitare. Si fa condizionare dal parere di una deficiente che mi odia. Io sono sciocco e stere fatta. Adesso la colpa è mia? Ma questa è follia. E questo, signori, che far rima, è stato il commento di Antonella. La risposta di Mikol non si è fatta attendere. Ha detto, tesoro, non fare sempre la protagonista. Nessuno ti ha dato la colpa. Rilassati. Io ho usato parole forti che erano dovute alla rabbia. E credo sia molto grave che lei abbia detto che non sono attratta da lui. Che parlo sempre di bei ragazzi. Ma Fiordelisi però ha rilanciato e ha detto, io odio le Santarelline. Fai l'Arcangelo Gabriele e invece sei Mephistofele. Adesso mi hai rotto. Mamma mia, ma che schifo. Una volta entrata nella casa, la madre di Edoardo ha appoggiato Mikol. E ha detto, sei proprio simpaticissimo. Sei te stesso, sei sempre così. Come ti conosciamo? Con Mikol mi devi dire qualcosa? Te l'aveva detto quella della mano, che avresti trovato una persona importante. Però impara a comportarti bene con le donne. Con Mikol devi essere dolce. Sì, devi essere carino. Le cose vostre, tenetevele per voi. Non andare a spiattellarle a certe persone. Per il resto sei fortissimo, eh. Mi fai conoscere mia nuora. Non ti ho mai visto guardare una ragazza come guardi Mikol. E dopo aver conosciuto Mikol, Emanuela ha rifiutato di conoscere Antonella, nonostante l'invito del conduttore Alfonso Signorini, che diciamo ci ha provato a far ammorbidire la situazione, ma non ci ha riuscito perché lei gli fa No, grazie Alfonso, sto bene così. Inutile insistere in questi casi. Questo è quel che è successo, signori. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a lasciare un pollice in su, perché per questa notizia possiamo dire che è tutto. Noi ci sentiremo alla prossima quando volete su Pausa Caffè per informarvi su quel che succede al grande fratello VIP, ma non solo.